Grazie e benvenuti in questo nuovissimo video Oh, l'altro Sì, l'ho trovato Ieris In una cassa In una In una cassa Non mi ricordo il nome Però è una cassa viola Dopo vi faccio vedere il nome Eh sì, cassa enorme Sì, è una cassa enorme L'ho trovato Sì, che nabbi Sì, che nabbi Sì E io non lo so usare molto bene E la devo portare al grado 15 Perché se no non fa della mia collezione Dai, dai, secondi Sì Ma sono primi Sì, primi Che bello È bello giocare con i nabbi Eh, grado 12 E 250 monete per aver fatto la missione E cassetta Dai, 4 scoop No Non ci credo Vabbè Se perdo Mi Mi scioppo 60 punti per Jackie Sul serio, eh? Cioè, se devo arrivare massimo top 4 Corvo, corvo, corvo Vai via No, 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 no No, 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 no Ma cosa girano? Non vale Piper, piper, piper Ma vabbè Questa cosa non vale Che ride Adesso resterò in un ciascuglio Per due ore Non è vero Voglio uccidere questa Cosa qui Questa Gna 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 Uccisa Però me Lui mi ruba il power up Certo Ah, dovevo sciopare quelle gemme Cioè, quelle robe Eh Quella testolina del video Già Adesso lo devo cercare No, non fare la nabba Ecco Ecco E l'ho sfiorata Eh Lalalalalala Sì Sì Dove sei? Dove sei? Ma 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 Mi state prendendo in giro? Dov'è? Ma Ma Io mi suicido Cioè Cos'è? Dov'è? Ma dove? Ma 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 Dai 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 no Dai vieni che muori Dai vieni Vieni Dai che voglio 14.000 coppe Eh Ok Bene Perché Se no Mi uccidei Va Ma 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 Cos'è Esta roba Io sto combattendo Con Una No Mi devi aiutare Amichetta Mi devi aiutare Non te Ligia Mi devi aiutare Sei? Dove sei? Ecco No Devo farare lei Mia Sì Come ho fatto Non lo so No Arriva Il vostro Pesco Del mio amico No Adesso arriva Anche lei Eh Hanno ucciso Una Una Cioè Una Senna Vieni qua Vieni qua Ma dai Ci sono uccisi In più Dai Please Terzi Sì Terzi Ah e devo sciopare L'offerto Mi sono sbagliata Ah ciao 120 minuti Che ho sbloccato Il miglioramento Come si chiama Sta cavolo Di Jackie Eh ho detto il nome Vabbè Voglio Il gadget Di lei Il gadget Di Dove Dove sei? Ah no Lui Lo devo ancora Migliorare Di Brock Di Tic Vabbè Diri Se no Non è anche Un punto No Stupido Herb Vabbè Vabbè Ragazzi Termino il video Quando lo porto A grado 13 Questo qui È un livello Un po' Più Alte Dai Vieni qua Ieri No Quella lì È quella Più Potenzione Però Un po' Più Scartetta Ah no Ma 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 Non va Vabbè Ragazzi Io voglio Terminare La qua Ciao